Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti! Oggi voglio parlarvi di un classico, andare a fare i camerieri a Londra come prima esperienza. Probabilmente l'ho detto altre volte, quando andiamo a pensare di fare i camerieri troveremo una concorrenza spietata di altre persone che lo fanno da anni, altre persone che sono del posto, altre persone che vengono da paesi dove hanno un'aspettativa salariale più bassa, troveremo persone con molti titoli di studio diversi che tutti nel loro inconscio pensano ok vado all'estero oppure rimango nel mio paese e magari mi muovo in una città più grande che offre più lavoro, la classica Londra e vado a fare il cameriere così per cominciare. Vero, verissimo che c'è una fame continue di questo tipo di figura perché le persone nei ristoranti, nei pub, nei bar vanno e vengono, non sono notoriamente molto stabili in generale. Quindi si crea molto turnover, molto ricambio in questo tipo di figura. Però è anche vero che quando ci si presenta alle prime armi non è la cosa più semplice ottenere un posto da cameriere. Questo ve lo dico per esperienza perché anch'io da buono sprovveduto ho fatto lo stesso. Quindi ho detto, ah io vado nei ristoranti, chiedo di fare i camerieri, mi dicono se l'ho fatto o meno in passato, dico sì, un pochino, qualcosa a rabatto. Però insomma si vede lontano miglio quando uno non l'ha fatto e risponde alle domande in maniera insomma molto molto imprecisa. Quindi loro che hanno l'occhio del mestiere vedono subito che uno sta mentendo. Quindi direi, sicuramente quello può essere un'ambizione che possiamo avere magari dopo qualche mese. Magari se uno è fortunato chiaramente lo trova subito. Però l'idea di andare a fare il cameriere, che è un ruolo che richiede essere a nostro agio con un cliente che parla un'altra lingua, a nostro agio nel fare dell'upselling, cioè nel chiedere il dolce, nel chiedere quel certo vino, cioè diciamo il ristorante o il bar che sia a magari certi obiettivi commerciali che deve proporre attraverso il nostro lavoro. Quindi il fatto di fare il cameriere non è la cosa più semplice di questo mondo, no? Poi serve anche una certa manualità, insomma io non l'ho mai fatto e quindi farei fatica a ottenere un sì per questo tipo di lavoro. Quindi è bene rimanere flessibile, è bene pensare a tanti altri mestieri che magari sono più semplici. Immaginiamo, ricordo benissimo un periodo in cui ero a Glasgow e ho fatto un colloquio per un'azienda di biscotti. Allora lì si trattava di posizioni di vario tipo, quello era il mio settore, il settore alimentare per cui ho studiato. E allora avevo un certo margine di vantaggio, effettivamente la posizione da operaio mi era stata offerta. Diciamo che peccato, avevo già deciso di ritornare per ricaricarmi e cercare poi di rilanciarmi in un altro luogo, con un altro metodo. Però, diciamo, sicuramente l'azienda fa meno fatica ad assumere un operaio che non deve esprimersi costantemente nella lingua locale, no? Perché l'operaio, una volta che ti hanno dato le istruzioni, interagisci con una macchina, interagisci magari con degli altri colleghi, ma non stai facendo un lavoro di tipo commerciale, non è un lavoro particolarmente di comunicazione. Quindi, questo giusto per dire che bisogna essere più flessibili, eh, quando ci si aspetta di dire Ah, vado a Londra e faccio il cameriere. Assolutamente, tanti ci riescono, molti lo fanno direttamente nei ristoranti italiani, si sentono a casa, benissimo, però non è necessariamente la cosa più semplice e diretta. Per tanti lo è, però non è l'unica. Bene, quindi questo è il mio pensiero per quanto riguarda il classico vado a fare il cameriere a Londra. A presto ragazzi, buona serata, ciao!